Cultura, turismo, valorizzazione del territorio, tutti elementi da vendere perché già esposti in una vetrina naturale. Vero sì, inutile la partecipazione al BIT di Milano, troppo dispersiva, troppo onerosa, una passerella per molti politici isolani poco attenti al mercato da offrire. È pensabile, con ottimi propositi, una borsa del turismo in Sicilia, già quest'anno in calendario nel mese di maggio, magari utilizzando i locali della Fiera del Mediterraneo. Un invito a Casa Sicilia, rivolta agli operatori di tutto il mondo, un invito anche digitale. Arrivi in Sicilia un pianeta a sé, un territorio unico ed inimitabile dalla variegata colorazione, una tavolozza smaiante dalle tinte diverse. La cartolina Bagheria Cara Palermo, ti scrivo La cartolina Bagheria 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. che posso fare. vedrai che... a tutti. a tutti. dolce. a tutti. funziona. è una cosa, è una cosa, a tutti. uno dei fondatori. della Panaria film, e a tutti. e attrezzature, e innovative per la riprese. e a tutti. del grande regista, e produce e produce e produce, e da tutti. sono le produzioni, che in ogni, e da tutti, e da tutti, e da tutti, si occupano, si occupano, e da tutti. e da tutti. e da tutti, e da tutti, e da tutti. 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 e da tutti, e da tutti. 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 parte, e da tutti. 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 e da tutti.